stand by ragazzi, stand by stava così a scatti su uno che deve andare a scatti c'è quell'hangar lì che non mi ispira per niente la terra viene a sud mi incrocio la strada l'hangar qua a destra non mi ispira per niente adesso chiudo vieni anche da 0-2 avanti 0-2 l'hangar qua a destra va bonificato interrogativo se siete abbastanza vicini per un bonifico informativo ricevuto Sam, Easy, Thor andate a bonificare quel compound sulla nostra destra mi mento direzione 3-2-3 ho scremato l'aereo un attimo andiamo di copertura ragazzi buono vuoto per entrare c'è anche gli uffici aspetta vorrei andare a vedere gli uffici bravo da dove tirano? direzione 2-4-5 tirano dal bosco stanno tirando dal bosco stiamo sotto ingaggio non li vedo mettetevi in copertura all'interno del bosco che sta a terra che sta a terra dimmi non ho capito è merda mi ha colpito attenzione contatti direzione 0-6-0 mi ha colpito ma sono ancora su 0-6-0 0-6-0 0-6-0 ragazzi cosa fai rientrare? arrivo dai di corsa torniamo dagli altri bande dove sei? ora fermo non c'è la terra